In considerazione della carenza di medici e di medicina generale nelle zone periferiche della città metropolitana di Napoli, in particolare nei territori afferenti all'ottava municipalità, la Regione ha chiesto all'ASL Napoli 1 Centro di individuare delle aree vincolanti di apertura degli studi medici. Inoltre, con il decreto dirigenziale, sono state approvate e pubblicate le graduatorie definitive e sono stati convocati ai medici per l'assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Grazie alle sollicitazioni del presidente dell'ottava municipalità, Apostolos Paipais, sono state accolte le istanze dei cittadini napoletani che da tempo lamentano in alcuni quartieri la pressante carenza di medici, di medicina generale. Prestare attenzione a tale difficoltà è stato un atto doveroso e ha costituito la ragione della nostra interrogazione presentata in Consiglio regionale al fine di sollecitare soluzioni perché fosse garantito a tutti il diritto alla salute. Così, Tommaso Pellegrino e Francesco Iovino, consiglieri di Italia Viva e firmatari della interrogazione. La risposta tempestiva giunta dalla direzione generale. Hanno proseguito Pellegrino e Iovino. È motivo di soddisfazione e rappresenta la svolta che attendevamo. Inoltre evidenzia lo straordinario lavoro che la regione Campania svolge per garantire un equo ed efficace funzionamento del sistema sanitario e nello specifico della medicina territoriale. Ringrazio i consiglieri Pellegrino e Iovino, ha precisato Apostolos Paipais, per la sensibilità manifestata e la sinergia istituzionale tra municipalità e regione. La risposta scritta e ufficiale ci rassicura sulla volontà di risolvere una situazione ancora complessa, ma per la quale si intravede la luce. Riteniamo indispensabile dare un segnale concreto ai cittadini.